Come va ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, o siete ipocriti e dite di sì perché siamo in tv, o spiegatemi come fate, cioè la guerra, minacce atomiche, prezzo del gas alle stelle, voi state bene? Cazzo ce ne fregano, ma infatti, ma infatti! Il mondo è talmente pieno d'odio che un posto tendenzialmente così pieno d'amore come la casa del grande fratello sembra diventato un luogo aggressivo in questi giorni. Però c'è una buona notizia, perché quando non si trovano bisogna andarsela a cercare. C'è una buona notizia, sì, la buona notizia è che ci sarà un solo caricabatterie per tutte le marche di cellulari, hanno approvato la cosa. Dai ragazzi, dai! Dai ragazzi, sembra una cosina piccola, ma intanto già per l'ambiente vale più questo di migliaia di post su Instagram che fate. La terza montagna più alta d'Europa, del mondo, dopo l'Everest e il K2, è quella dei miei caricabatterie accumulati sul comodino. Quindi per l'ambiente va benissimo. Grazie mille Europa, ci hai messo 30 anni per una cosa del genere, ognuno con i suoi tempi, però grazie mille. Se vuoi fare ancora un passo avanti, metti fuori legge le chat scolastiche dei genitori e stiamo una favola. Forza Europa! Forza! Basta, sono finite le buone notizie. Era tutto quello che avevo da darvi sui giornali, non ci sono altre buone notizie, anche perché quando ci sono notizie medie i giornali cercano di renderle angoscianti. Ne ho trovata un'altra questa mattina sulla stampa, ve la faccio vedere. È la storia astruggente di un cane che ha distrutto 250 confezioni di figurine dell'album della Coppa del Mondo e sul giornale c'era scritto che il suo senso di colpa è indimenticabile. Allora, intanto i cani non hanno nessun senso di colpa mai nella vita. Indimenticabile magari è l'incazzatura del padrone, ma il cane non ha il senso di colpa, ok? Solo che i giornalisti cosa sanno? Che niente fa cliccare più di un cane, figuriamoci un cane col senso di colpa, no? È il massimo del clickbait possibile. Adesso vi faccio vedere il cane. Era già nella foto, l'abbiamo solo escluso per non farvi andare fuori di te. Adesso vi faccio vedere il cane col senso... È questo qua. Non si sente, è normale, non si sente in colpa, perché non hanno il senso di colpa, ma è semplicemente fotografato dall'alto. Cioè, chiunque fotografato dall'alto sembra che abbia il senso di colpa. Anche Mike Lennon, possiamo inquadrare Mike Lennon dall'alto. Guardatelo, non ha fatto niente di male, eppure dall'alto... Non ho fatto niente io. Sembra dilaniato dai sensi di colpa. Dalla prossima notizia, invece, vorrei tanto parlarne con il nostro primo ospite, che è già entrato per sbaglio, ma adesso tra poco entrerà per davvero, perché riguarda il tema della sicurezza stradale e della velocità. Viene da Faenza, la notizia, non l'ospite, un uomo è stato multato dai vigili urbani per 600 euro, ok? Ma lì è scattato il genio. Perché che cosa ha fatto lui? Ha pagato 6 euro e poi sul bollettino ha aggiunto due zeri a penna, pensando che i vigili non se ne accorgivano. Invece, guarda te, se ne sono accorti... Vi sembrerà strano? Se ne sono accorti? Non so come abbiano fatto, perché era un piano a prova di bomba. Fossi la Meloni, farei la stessa cosa per il debito pubblico italiano. Tu scrivi... Allora, Giorgia, fai 5 euro sul bollettino, aggiungi 18 zeri, uno di fila all'altro a penna. Oh!